ciao ragazze buongiorno bentornati sul mio canale oggi vi mostro cosa ho scelto dal sito cobeads una nuova collaborazione con il sito sono davvero contentissima questa è la mia seconda collaborazione con questo sito che vi consiglio davvero di spulciare perché ha tantissime cose davvero interessanti ovviamente il pacco mi è arrivato in 13 giorni lavorativi era tutto bello imballato con ovviamente con il pluriball con la bustina quindi arriva tutto tutto integro è un pesante perché all'interno c'è un componente pesantissimo che adesso subito vi mostro cosa cosa ho scelto metto pausa per non per non spacchettare fare tutti questi rumori metto pausa e ritorno da voi come allora il primo prodotto che ho scelto dal sito è questa piastra in acciaio che serve appunto per martellare le creazioni in wire questo è il codice e da sola ragazzi questa pesa mezzo chilo da sola davvero un'arma un'arma perché è pesantissima e serve appunto per andare a ovviamente qui c'è la pellicola che dopo dopo pian piano la elimino tutto ed è appunto la piastra questa qui in in acciaio per andare a martellare le nostre creazioni al wire quindi questo è il primo prodotto questo è era appunto il codice però i codici ve li inserisco anche tutti quanti giù in descrizione per se vi interessa un articolo in particolare adesso aspettate che rinserisco quello che vi mostro all'interno della busta in modo che seleziono il tutto allora secondo pacchettino io li prendo un po' così questo è l'articolo andiamo a vedere che cos'è che non ricordo preso talmente tante cose allora questo è un carinissimo questo al ciondolino con la mia iniziale appunto la g di giulia se non nello questo l'ho preso anche argento davvero molto molto bene la perdonatemi le mie mani ma sono devastate non ci fate caso alle unghie le mani sono davvero devastate davvero molto bello questo fatto che da una parte punzonata e poi dall'altra parte liscia mi piace davvero tanto è abbastanza anche grandicella e c'erano ovviamente anche altre altre letterine questo è il retro sempre in acciaio quindi andrò a mettere una catenina lunga per poi portare questo bellissima questo bellissimo ciondolo aspettate faccio così facciamo prima che sennò se lo inserisco all'interno della bustina finisco questo video a pasqua questo è il codice poi altro prodottino prendo questo qui questo è il pezzi e sono due stampi sul sito appunto specialmente per quanto riguarda gli stampi questi qui in silicone per la resina sia resina ipositica resino vi avete la possibilità di comprare più set questi davvero costavano davvero pochissimo adesso non vi sto dicendo appunto i prezzi di tutti gli articoli perché ne sono tanti e ci mi impiegherei davvero tantissimo tempo e questi sono due stampini dei triangoli e il rombo e appunto all'interno sono due due stampini in un unico set terzo articolo ho scelto queste medagliette sempre in acciaio davvero molto carina questa c'era anche in in oro eccola qua sono con il sole carinissime sono esattamente cinque pezzi si poi altro prodottino ho preso questi cipollottini ne ho presi diversi di cipollottini questo è il codice questo è un bellissimo verde davvero molto molto bello il filo è sempre molto lungo aspettate veramente così così ok è davvero un bellissimo verde metti a fuoco cellulare perché sto registrando appunto con il cellulare se sentite in sottofondo russare e il mio cane e laila che sta facendo un pisolino ok questi se non erro si renda 4 per 3 mm qui c'è appunto anche la misura poi altro prodottino prendiamo questo qui questo è il codice questi credo che sono degli orecchini perché c'è scritto un paio di orecchini ok questi erano quelli che appunto scelto sempre in acciaio dorato sono davvero molto molto carini sono con l'effetto diamantato ormai la saprete io adoro i cerchi quindi questa forma particolare mi sa che l'ho presi anche più grandi sono davvero molto molto carini altro prodotto questo qui questo sempre orecchini perché c'è scritto un paio sempre tutti i componenti sono tutti quanti in acciaio sto scegliendo appunto da tutti i componenti in acciaio perché sapete che sono la prima allergica ad altri metalli e quindi preferisco tutto in acciaio un attimino che ve lo apro questi sono sempre degli orecchini davvero molto molto carini a forma di stellina carinissimi e lucidi riecco mi sto cercando di mettere pausa quando rimetto all'interno il componente in modo che non faccio troppo casino questi sono dei cipollotti da 4 mm questo è appunto il codice di questo bellissimo colore uva rido perché con una con la mia migliore amica monetta mi ha detto questo è color uva ok quindi è uva davvero molto carini da sempre 4 per 3 mm rieccomi prossimo articolo che ho preso è questo distanziatore con i cuoricini davvero molto molto carino sempre in acciaio questo è il codice questi mi sa che ne ho presi due sì questo è un unico pezzo questo appunto il codice e sono carinissimi ve lo mostro da vicino impacchettatissimo come sempre eccolo qua sono davvero molto rigidi anche perché vi dicevo sono sempre in acciaio e questo volendo può essere il centrale per un bracciale perché no i prossimi unboxing sicuramente li farò sempre con il cellulare perché mi consente di mettere la pausa e non fare un editing lunghissimo dopo al pc questo è un altro articolo questo appunto il codice questo è un bracciale rigido sempre in acciaio questi ne ho presi due sempre se riesco a chiappare l'altro eccolo qua sì ne sono due vi mostro uno è fatto in questo modo si sgancia e poi si riaggancia in questo modo davvero molto molto carino io adoro questi bracciali rigidi e vi dicevo ne ho presi appunto due poi altri prodotti che ho scelto questo qui questi sono degli orecchini c'è scritto un paio quindi sì ah questi sono i quadrati che vi parlavo prima non sono diamantati sono lisci ma davvero sono davvero molto carini sono fatti in questo modo e poi vedete sempre con la chiusura che si alza e poi si incastra altro prodotto queste qui sono delle sfere imitazione acqua marina da 4 mm questo è appunto il codice che se non erro sul sito sono leggermente più scurette però non sono brutte ho preso questi charms con il quadrifoglio sono 10 pezzi sempre in acciaio ve ne mostro uno ok carinissimo poi ho preso questo qui questo è il codice credo che sia sempre un distanziatore sì infatti questo è a forma di farfallina l'ho preso sia con due con il cuoricino e questo qua che ha la farfallina sempre in acciaio anche carinissimo anche questo certo adesso c'è la luce la luce sparata ok poi 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 ci sono ancora altri parchetti ho preso questi distanziatori che volendo possono essere tranquillamente anche dei pendenti sono davvero molto piccolini sono 10 pezzi da 3 mm questi non ve li tiro fuori anche perché sono davvero piccini quindi rischio di non mostrarvi proprio nulla vedete sono la sferetta con appunto l'anellino sopra provo a togliere la luce magari si vede ok vedete che con valentino in acciaio riflettono tantissimo quindi ok il luce fu questo era il codice poi un altro questo era il ciondolo sempre con la G sempre in acciaio questo è il codice non ve lo apro è uguale a quello lì dorato solo che è in argento appunto poi ho preso queste sfere frosted queste sono da 4 mm questo è appunto il codice ve le mostro da vicino davvero molto carine queste perle credo che farò qualcosina con queste perline qui vedete carinissime questo effetto opaco ho preso questi qui mi sembra tre filtre sì sono fissata col rosso davvero molto belli sempre da 4x3 il filo è davvero molto molto lungo quindi sul sito erano in offerta se non erano a 33 centesimi quindi vi consiglio davvero di guardare tutte le sezioni perché specialmente per i cipollotti fili così lunghi perché è davvero lunghissimo non so se rende in videocamera davvero lunghissimo pagarlo 33 centesimi è davvero un affare poi siamo quasi in vittura d'arrivo allora ho preso queste lunette sempre in acciaio sono presenti 5 pezzi all'interno questo è il codice queste non ve le apro si vedono proprio pari pari dalla bustina l'anellino con appunto la lunetta poi ho preso questi cipollottini celesti questo è il codice questi sono da 6x8 il filo è sempre bello lungo ed eccoli qua davvero molto belli ho preso questi pendenti a forma di rumbo in acciaio dorato e sono all'interno 10 pezzi questo è appunto il codice non ve lo mostro perché si vede appunto dalla bustina poi in ultimo no questo qua ho preso ah questo è il secondo distanziatore con in acciaio che vi ho mostrato prima poi infine ho preso questo strumento che ci servirà in plastica dura e ci servirà appunto per il quilling poi vi mostrerò come lo andrò ad utilizzare questo è il codice e poi infine ho preso un set per la resina questo è il codice questo set questo set è davvero molto molto carino ve lo straconsiglio per chi fa la resina perché all'interno ci sono diversi stampi aspettate che ve li mostro tutti ok c'è lo stampo di questo con i gattini e con le zampette che assolutamente voglio fare le zampette per creare un portachiavi per me e per mia sorella al limite metterò anche un iniziale della C di Charlie il mio amore poi la stellina con la luna poi i cuoricini questi sono più arrotondati questi sono più diversi vedete? non so se si nota dalla videocamera e poi c'è quest'ultimo davvero molto carino con il puzzle con l'ovale il rettangolo poi la goccia quadrato c'è questa forma davvero molto carina quello che non mi piace è questa credo questa forma qui non credo che andrò mai a colare in questo stampo qui gli altri sono davvero molto molto carini volendo si possono fare davvero tantissime cose queste sono tutte le cosine che ho scelto appunto dal sito di Kobiz giù nell'info box vi lascio tutti i link inerenti a tutti i prodotti io come sempre vi saluto un bacione e alla prossima con nuovi video ciao